qua ci sono delle altre informazioni che sono estremamente interessanti estremamente utili e non sono slegate della finanza come un master in finanza mi parli di personale mi parli di organizzazione assolutamente sì perché tutte queste informazioni hanno un legame diretto indiretto con l'analisi del rischio con l'analisi finanziaria guardavano qualcuna i cerni storici e lo sviluppo dell'azienda è interessante capire da dove viene l'azienda se è un'azienda familiare se è un'azienda che segue ad esempio un'operazione di scissione societaria diffusione questo perché crea contesto quindi queste informazioni relative alla parte storica e organizzativa dell'azienda mi danno in realtà degli elementi preziosi per l'analisi della valutazione perché mi danno il contesto in cui questo sta avvenendo in cui la mia analisi sta calando ma voi pensate di leggere degli indicatori dei freddi indicatori finanziari dell'azienda per esempio sul capitale circolante per esempio sull'impatto del costo del lavoro sui costi totali che sono indicatori che poi andiamo a toccare e che fanno parte della valutazione della pratica sarete d'accordo con me spero se no segnalatemelo pure che la lettura di questi indicatori non può essere fatta in maniera totalmente svincolata decontestualizzata dello scenario aziendale se un'azienda ha fatto un'operazione di scissione tra la parte produttiva la parte commerciale e insomma gli indicatori commerciali se quest'ultima è la richiedente vanno letti come si leggono gli indicatori commerciali indicatori sul capitale circolante di un'azienda di trading di un'azienda commerciale ok viceversa se guardo l'impresa produttiva quali sono i principali prodotti e servizi erogati dall'azienda qua mi posso confrontare con dei concorrenti posso fare se l'azienda mi dà un business plan quello che tutti quanti o la maggior parte di voi ha detto essere fondamentale nella mia analisi conoscere i concorrenti o capire quali sono i prodotti mi può servire moltissimo perché se a me di un business plan di un'azienda che produce un certo prodotto dicono che i margini attesi sono dell'8 per cento io non ho elementi per capire se quell'8 per cento è un sogno per quel tipo di azienda o se magari addirittura è al di sotto dello standard di mercato per quel tipo di azienda allora queste informazioni mi creano il contesto per cui non sottovalutatele ma date loro lo spazio che meritano intanto saluto raffaele grazie un saluto anche a te ma andiamo avanti il personale clienti fornitori poi faccio una domanda un po un po cattiva ma insomma neanche più di tanto perché è importante in una pratica di fido conoscere chi sono i clienti principali e chi sono i fornitori principali dell'azienda qualcuno di voi mi risponde mi dite mi date qualche traccia su questo perché è importante sapere chi sono i clienti fornitori di un'azienda che richiede allora saverio mi risponde la solvibilità clemente mi risponde la credibilità lorenzo mi risponde la concentrazione l'aging la natura eh Angelo mi dice per il loro rating eh Andrea il livello di concentrazione la solidità Raffaele l'affidabilità i clienti devono essere affidati mamma mia che valanga bellissimo di di risposte eh addirittura Filippo mi scrive la verità fantastico per identificare i parametri dice Alessandro per lo standing creditizio perché impattano sull'affidabilità del capitale circolante netto e beh non riesco a non essere d'accordo con alcuna di queste eh risposte eh Oscar addirittura mi scrive i clienti per giudicare sulla qualità del credito e la percentuale di concentrazione del rischio è ovvio che se la mia azienda fa l'ottanta per cento del fatturato con un cliente non è che questo di per sé vada male perché in alcuni settori è così penso a certi tipi di commesse ma andrò bene a guardarmi quel tipo di cliente io aggiungo anche un altro elemento quelli che mi avete scritto che sono tutti corretti perché dopo quando ci divertiremo nell'andare a stressare il nostro business plan vedremo che lo scenario di stress da creare non è mica sempre lo stesso io voglio applicare degli scenari di stress alcuni che potrebbero essere generali ma a me non piace tanto uno scenario generale io vado a stressare i punti che secondo me data anche la comprensione iniziale della mia azienda potrebbero essere i punti deboli se ho un'azienda che storicamente ha fatto marginalità operative negative con delle vendite stabili in un mercato dove in corso una concentrazione e ragazzi io andrò a stressare la marginalità del business plan cosa succede al tuo piano e la tua capacità di rimborsarmi se continui con la tua bassa marginalità storica e non riesci a centrare come speri come credi come pianifichi la tua marginalità più alta prospettica quindi questa parte qua della richiesta è veramente importante perché è quella che guida poi quello che dovete chiedere quello che dovete vedere e tutti i test di stress che dovete fare ai tutti i piani aziendali